Sono Steve Galaxy e questa è la mia città. Una strana mail di Ivan li portò ad uno spiacevole addio. Nonostante... chi è questo? Ma chi è? No, c'è l'Ispettore Galaxy. Ah, ma è l'Ispettore Galaxy. Va bene. Investigatore, noi non ci siamo conosciuti, quindi boh ti piscio in faccia. Alla fine... Grazie. Ringrazio Gigi per avermi dato la possibilità di doppiare un personaggio pragmatico come Steve Galaxy. Un saluto da voce di Google. Grazie a tutti. Grazie a tutti.